ciao ragazzi guardate qua quanti pacchetti sono esattamente 36 sono davvero tanti e la prima volta che porto sul canale questa specie di video è davvero bellissimo aprire pacchetti di pokémon almeno per me ce ne sono non so quanti da una parte quanti dall'altra ma penso siano pari e questi qua sono di shalizard e questo qua di un altro pokémon che non conosco scrivetemelo nei commenti ragazzi se lo conoscete io inizierei con un shalizard ci sentiamo dopo ragazzi ecco ragazzi eccoci e vediamo se riusciamo a trovare qualcosa ho aperto come primo pacchetto voglio aprire il pacchetto di shalizard vediamo se facendo così avremo un po di fortuna vediamo se troveremo qualcosa di buono scusate ragazzi poi ci farò la mano comunque ad aprirli perché inizierò ad aprirne dovrò aprirne 36 quindi dovrei riuscire ad aprirli comunque ragazzi non sarà l'unico video che farò anzi ci saranno molti video ci farò allora vediamo un attimo apriamo 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 l'ho aperto anche dall'altro lato vediamo se troveremo già qualcosa di buono nei primi pacchetti oh mamma olè allora gottile o comunque non so come si pronuncia sempre questa però l'evoluzione poi gradent grident ma è uno scherzo è uno scherzo ho visto una luce oh mio dio oh mio dio dopo questa ragazzi ho visto una luce quindi non vorrei che sia qualcosa di raro oh mio dio guardate oh mamma santissima e ga e slubro vi di galar ragazzi subito subito e dico subito una carta fortissima altra carta qua attenzione queste qua le ho già viste vediamo bellissima che cos'è ragazzi non l'ho mai vista questa carta molto bella molto bella ed ora adesso le rari in questo pacchetto sono due ragazzi ci vedremo negli altri pacchetti adesso controllo se comunque tutte queste carte qua erano quelle che hanno già aperto sì perfetto ragazzi ci vediamo nel prossimo video bella raga guardate qua intanto le due rare prima qua questa qua che è rarissima infatti avevo detto che avevo visto la luce e adesso questa qua bellissima ciao ragazzi al prossimo video io a io Grazie a tutti.